Racconti qualcosa della giornata con Buffon, qualcosa che è la domanda di sempre, ma qualche dettaglio? Sicuramente mi ha fatto molto piacere passare tutta la giornata perché alla fine anche i test li abbiamo fatti quasi sempre insieme, quindi abbiamo vissuto a stretto contatto e fa molto piacere, mi ha fatto molto piacere giocarci contro per poterlo studiare da vicino perché alla fine si impara anche solo guardando gli altri, guardando quello che fanno gli altri. Hai dato qualche consiglio o no? Il consiglio è quello che mi stanno dando un po' tutti, che è quello di rimanere con i piedi per terra e di continuare a lavorare perché sto iniziando bene però non è ancora finita. E lì che sensazioni hai avuto? Cosa si diceva? Perché si fa tutto con i si dice in questi giorni tra i portieri giovani che sono un po' in lizza per questo fatidico terzo posto. Si dice quello che è giusto, cioè che tutti devono lavorare, devono migliorarsi e dimostrare il loro valore da qui alla fine del campionato.